John Kennedy era il giovane senatore democratico che andava contro un vincitore certo nelle elezioni del 59. Richard Nixon, che era il vice presidente di Eisenhower, era praticamente destinato a vincere lui la presidenza. Si trovano di mezzo questo giovane rampollo di famiglia per bene John Kennedy che gli rompe le scatole e fanno una guerra testa a testa in tutti gli stati e rimaneva un solo stato in bilico. Lo stato in bilico, diciamo fra i due, era Lillinois, lo stato di Chicago, dove c'è la capitale della mafia. Gli uomini di Giancana si misero in moto e John Kennedy vinse a Lillinois per centomila voti soltanto. Non è chiaro se i due Kennedy, i due fratelli, sapessero che il padre aveva fatto questa telefonata magica. John, eletto presidente, mette a ministro di giustizia suo fratello. Il ministro di giustizia è il capo delle FBI ovviamente, anche fra le altre cose. John cosa fa? Le licenze è il capo della CIA, Allen Dallas, perché in quel momento erano CIA e FBI che controllavano il vero potere. Quindi arriviamo al 63, Kennedy, John, il presidente e il fratello hanno due nemici fondamentali, la CIA e la mafia perché Robert continuava a perseguitarli. La mafia e la CIA si alleano per far fuori John. Decisero che a Dallas Kennedy andasse ucciso e così fu fatto. Aveva contro la CIA e la mafia principalmente, come abbiamo già detto. Poi aveva contro le FBI stessa. Aveva contro gli industriali. Pare che Kennedy volesse rivelare certe verità che lui aveva saputo sugli alieni, sugli UFO e molti invece nel Pentagono non volevano che lui rivelasse queste verità. Volevano che restassero ancora segrete. E soprattutto, un altro grandissimo problema, Kennedy voleva rimettersi a stampare denaro di Stato. E quindi c'è un altro motivo per farlo fuori. Diciamola breve. Arrivato al 63, i Kennedy avevano tutti, forse meno l'associazione dei bidelli dell'Oklahoma, tutti gli altri ce li avevano contro. Quindi dovunque ti girassi avevano dei nemici. Quindi è stata un'alleanza di forze esterne che si sono coagulate, delle quali la mafia e la CIA sono stati i principali azionisti.